Come il gatto Rossini è la mascotte dei cittadini di Rovigo, così il cane Arturo è la mascotte dei pescatori di Porto Viro. Così è stato definito Arturo, il cane che è stato investito da un'auto e che ora tanti si stanno prodigando per aiutare a guarire la sua zamba ferita, verosimilmente con una costosa operazione per la quale si stanno raccogliendo i fondi. Davide Grillo, del Levante Fishing Club, spiega che domenica a luna di notte, sul marciapiede di un'abitazione del posto, una macchina ha investito il cane. Il giorno dopo lo abbiamo trovato mezzo paralizzato, racconta, per cui noi pescatori che tutti i giorni lo accarezziamo perché è il nostro migliore amico, lo abbiamo portato dal veterinario. Gli è stato diagnosticato un grosso trauma al nervo sciatico della zampa. Il veterinario ha quindi prescritto delle cure per capire quale sia la soluzione migliore, cioè se il nervo danneggiato potrà guarire o se invece sia strappato e sia necessario intervenire per evitare che perda la zampa. Abbiamo inserito un video poi social che ha catturato l'attenzione di tanta gente che vuole aiutare il cane dando una donazione per le sue cure, quindi ci siamo rivolti a delle associazioni per trovare la soluzione. Ci hanno anche chiamato dal comune di Porto Viro e abbiamo deciso di creare un fondo per aiutare Arturo e gli animali che hanno bisogno di cure.